i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Che ho scelto per questa mattinata è un testo che per quanto possa essere breve è un po' complicato, anche estrapolato dal contesto è un testo molto forte perché dice tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio. Quindi molte volte sappiamo benissimo che è capitato un po' a tutti di aver passato dei momenti brutti nella propria vita alcune volte magari abbiamo anche chiesto Dio perché mi fai questo? Purtroppo dobbiamo anche comprendere che qualche volta dovremmo essere un po' più fiduciosi neanche dire questa parola perché tanto sappiamo che noi abbiamo dietro di noi alle nostre spalle un papà che ci vuole bene, una persona che non ci farebbe mai del male anche quando le nostre sicurezze vacillano noi abbiamo una sola possibilità quella di aggrapparci il più possibile a Dio. Sappiamo che Lui ha per noi un disegno, ha per noi dei progetti, per ognuno di noi quindi dobbiamo essere i più forti, i più convinti possibile di andare sempre avanti lottare perché molte volte ci sarà chiesto anche questo, di lottare anche in dei momenti pericolosi. Per esempio troviamo due esempi biblici che sono la storia di Daniele e la storia di Paolo. Sappiamo benissimo che Daniele era un profeta, era una persona che credeva tantissimo a Dio e aveva delle capacità più che notevoli tanto da essere invidiato da le altre persone che collaboravano con lui al servizio del re Dario. Allora cosa succede? Che queste stesse persone decidono facciamo una cosa, mettiamoci d'accordo facciamo firmare a Dario questo decreto che chiunque venere un'altra persona che non è lui debba essere gettato nella fossa dei leoni. Dario forse un po' per orgoglio un po' perché si sentiva anche importante firmò questo decreto e loro arrivarono a quello scopo perché nonostante Dario ammirasse molto Daniele Daniele non si mosse dal suo Dio Daniele rischiò, sapeva che sarebbe finito nella fossa dei leoni ma nonostante tutto continuò a non venerare Dario venerò lo stesso Dio e allora a quel momento arrivarono le altre persone gli stessi che avevano fatto firmare questo decreto e dissero o re Daniele non ti venera e ora lui fu costretto a malincuore a gettarlo nella fossa dei leoni chiuse la fossa con la pietra e gli mise il suo sigillo questo è scritto nella Bibbia il giorno dopo Dario ammirava molto Daniele era molto dispiaciuto di quello che stava succedendo allora andò nella speranza che non gli fosse successo niente e disse Daniele sei vivo e lui rispose oh mio re il mio Dio mi ha salvato i leoni non mi hanno toccato gli angeli mi hanno protetto immaginate che possibilità ci possa essere di finire nella fossa dei leoni all'epoca e di sopravvivere sopravvivere perché lui non ha rispettato un decreto e ha pregato un Dio che non era quello che all'epoca tutti pregavano non aveva rispettato il decreto eppure lui nonostante fosse convinto che avrebbe messo in pericolo la sua vita disse io non mi preoccupo io so che le cose concorrono al bene io so che tanto Dio mi proteggerà così fu ma la cosa di questa storia non è soltanto la bellezza di quello che è successo a Daniele ma voi immaginate la faccia delle persone quando hanno visto tornare Daniele sano e salvo gli stessi che hanno cercato di ammazzarlo gli stessi che magari non credevano a quel Dio che Daniele professava quale può essere stata la loro reazione? lì è stata una dimostrazione che le cose concorrono al bene perché Dio ha dei progetti magari nel progetto c'era anche questo di diffondere il suo nome di far capire che quello che credeva Daniele non erano fandonie era la pura verità ma senza tornare magari indietro a Daniele che nonostante ci ha lasciato varie dimostrazioni possiamo parlare di Paolo la storia di Paolo è una storia che viene molto spesso ripetuta quindi magari sai la si vede anche un po' come si l'ho sentita non gli si dà la vera e propria importanza di quella che in realtà ha Paolo era una persona era il nemico numero uno dei cristiani era colui che voleva vedere distrutta la chiesa di Dio, di Gesù e avrebbe fatto di tutto poi a un certo punto sulla via di Damasco lui cambia lui cambia Gesù li appari dice Paolo perché mi fai questo e diventa uno dei predicatori lasciatemelo dire probabilmente uno dei migliori che c'erano colui che andava quindi la persona che era il nemico colui che voleva uccidere i cristiani era colui che andava alle chiese per risolvere i problemi pensate un po' cioè un po' a questa storia come può essere curiosa ma quanto allo stesso tempo sia forte e lui Paolo morì morì per portare professare la parola del suo nemico di quello che fino a poco tempo prima era il suo nemico pensate che a Dio sarebbe bastato poco all'epoca quando Paolo ancora prima di cambiare quando ancora si chiamava Saulo voleva distruggere i cristiani sarebbe bastato poco a Dio per per farlo fuori invece lui cosa ha fatto? no noi dobbiamo aspettare e perché? perché io per lui ho un progetto e il progetto era più grande di quello che mai si potesse immaginare non penso che una sola persona sulla terra potesse immaginare la conversione di Paolo e quello che lui avrebbe fatto per la chiesa che lui voleva vedere distrutta però Dio è un progetto per noi Dio sa benissimo le qualità che abbiamo sa che magari in dei momenti noi siamo deboli bacillano la Bibbia lo stesso Paolo ci dice prima i romani io noi non facciamo quello che vogliono noi facciamo quello che odiamo perché a volte siamo un po' magari oscuriti da da delle problematiche da delle incertezze da delle paure noi siamo esseri umani però lì dobbiamo essere più forti perché noi abbiamo un vantaggio sugli altri noi abbiamo Dio sappiamo abbiamo Dio dalla nostra parte sappiamo che in qualsiasi momento Lui è lì ma non dobbiamo essere egoisti perché il nostro compito da cristiani è anche quello è anche quello di far di tutto per poter portare delle altre persone a Lui di poter far vedere quanto è bello l'amore di Dio di poter far vedere quanto io vivo più tranquillo quanto è bello essere qui riunirsi e che le cose che sono scritte sono vere ma soprattutto perché il compito principale è quello di far vivere un'esperienza con Dio noi dobbiamo far vedere agli altri che noi abbiamo avuto un'esperienza con Dio non solo perché noi leggiamo la Bibbia e diciamo quello che la Bibbia dice che è la verità ma perché noi nel nostro abbiamo avuto un'esperienza dobbiamo avere l'amore di Dio negli occhi se non riusciamo a riflettere l'amore di Dio negli occhi non riusciremo ad adempiere a questo compito per riflettere quest'amore di Dio negli occhi abbiamo bisogno di aggrapparci a Lui il più possibile di farci aiutare ripeto noi siamo umani abbiamo bisogno di un aiuto dobbiamo chiedere a Lui di aiutarci per poter fare questo semplicemente ma ripeto da soli noi non possiamo fare niente mi viene in mente l'ho anche accennato a proposito di questo discorso l'ho accennato sabato scorso la scena del film Dio non è morto il film Dio non è morto uno sto parlando si basa sulla storia di questo ragazzo questo ragazzo era uno studente universitario quindi potrebbe essere uno di tutti noi la storia è una storia vera premetto quindi non è inventata ma è una storia realmente accaduta questo ragazzo voleva laurearsi in legge quindi diventare avvocato studiare giurisprudenza fino a che per laurearsi in legge lui doveva fare alcuni esami tra questi si trovava l'esame di filosofia all'esame di filosofia c'era questo professore che appena il primo giorno loro hanno messo piede nella classe chiede alla classe di fare una cosa legge dei nomi di scienziati filosofi poeti gente importante e chiede cosa hanno in comune tutte queste persone sono tutte ate quindi se voi volete passare questo corso voi dovete scrivere su un foglio Dio è morto voglio che me lo consegnate con la vostra firma allora possiamo andare avanti nel corso se avete voglia di laurearvi pensate un po' a quel ragazzo quel ragazzo non sapeva cosa fare quel ragazzo non ce la faceva ha deciso di andare al suo professore e dice io non posso io sono cristiano io non posso io credo che Dio non è morto e lui gli dice allora facciamo così se vuoi laurearti quindi se vuoi che io faccia passare questo corso devi venire qui hai 20 minuti a disposizione per convincere tutta la classe che Dio esiste come fai con una classe di 200-300 persone che tutti siano d'accordo che Dio esista è un compito arduo allora lui si trova in questa chiesa era immerso nei dubbi lui non sapeva cosa fare assolutamente era vacillava perché aveva da una parte molte persone che dicevano lascia stare cosa sarà mai non ti preoccupare tu non puoi mettere a rischio la nostra vita la nostra carriera la tua vita per un professore per dimostrare che Dio sia veramente vivo lui nonostante tutto però va in questa chiesa trova questo pastore il nome di questo pastore è Dave che gli dice tu hai due compiti principali il primo ricordati di Matteo 26 Matteo 26 dice chi rinegherà a me davanti all'uomini verrà rinegato da me davanti a mio padre quindi lo devi fare ha detto perché non è magari si può pensare ma tanto che sarà mai cioè Dio vede che io sono fedele Dio vede che io sono credente se non lo faccio questa volta che succede? non succede niente e invece no e invece non è così perché se abbiamo la possibilità di portare il suo nome di portare il suo credo a delle altre persone è nostro dovere farlo infatti lui dice quante di quelle persone li hanno mai messo piedi in una chiesa a parte te? nessuno e allora non pensi che potresti essere l'unica l'unica occasione che gli altri hanno per conoscere Dio pensate se nella nostra vita capitasse l'unica opportunità noi fossimo l'unica opportunità che la gente ha per conoscere Dio è nostro compito non essere questi condividerlo è nostro compito far sì che l'amore di Dio si propaghi il più possibile noi non dobbiamo dubitare anche se ci può essere difficile può avere delle conseguenze non dobbiamo dubitare neanche un secondo in tutto perché noi potremmo essere l'unica persona che potrebbe portare a Dio un'altra e fidatevi che è una cosa bellissima è anche un nostro un po' orgoglio personale abbiamo adempiuto anche il compito che ci è stato dato ovviamente non dobbiamo fermarci sia chiaro però abbiamo fatto un passo avanti in quello che è il nostro percorso di fede noi il nostro percorso di fede lo viviamo quotidianamente sappiamo come ho già detto diverse volte che potrebbe essere difficile potrebbe essere un po' portarci farci pensare che qualcosa in realtà anzi che portare del bene possa portare del male ma non è così non è così non dovete preoccuparvi non importa quanti anni tu abbia non importa quanto bene conosca la Bibbia non importa da quanti anni tu hai avuto queste esperienze di Dio importa che tu veramente voglia dimostrare l'amore che provi per Dio e voglia mostrare nei tuoi occhi l'amore di Dio il messaggio di Dio e allora riusciremo sicuramente a portare qualcuno a Lui perché è questo che noi dobbiamo dimostrare far vivere un'esperienza personale con Dio è l'unica possibilità magari potremmo avere delle difficoltà in questo perché voglio dire non è sempre facile potrebbe non accadere al primo colpo ma ci sono dei passi che ci dicono stai tranquillo confida nel tuo Signore con tutto il tuo cuore non appoggiarti sulla tua intelligenza in tutti i tuoi passi pensa a Lui ed Egli appianerà i tuoi sentieri se dovessi comunque continuare a sbagliare perché magari ancora non hai ben chiaro come poter mostrare l'amore di Dio agli altri non ti preoccupare tu non temere perché io sono con te non ti smarrire perché io sono il tuo Dio io ti fortifico io ti soccorro io ti sostengo con la destra della mia giustizia non preoccupatevi Lui dice stai tranquillo ci penso io andrà tutto bene no problem e anche se dovesse soffrire per la giustizia beati voi non vi sgomentate per la paura né vi turbate ma adorate il Signore Cristo nei vostri cuori pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi fino alla nostra fine Lui ci guiderà ci sosterrà e ci salverà lasciamoci guidare alla fine siamo solo uomini però se ci lasciamo guidare abbiamo una marcia in più e sicuramente riusciremo ad arrivare dove noi vogliamo ad arrivare dove Lui vuole che noi siamo ad arrivare dove altri che magari possono essere più intelligenti possono essere più non so preparati di noi non arriveranno perché noi abbiamo una marcia in più il cuore dell'uomo medita la sua via ma è il Signore che dirige i suoi passi la cosa bella che penso che state notando è come in realtà la Bibbia non sia soltanto un libro di storia non sia soltanto un libro in cui magari uno non ci si può ritrovare tutto quello che io vi ho detto da confida nel Signore sono tutti versetti biblici scritte da persone che hanno vissuto in momenti differenti persone che non conoscevano gli altri che ancora non avevano unito la Bibbia ma si incastrano perfettamente l'uno nell'altro per farci capire che quando noi magari cerchiamo delle risposte e non le troviamo è solo perché non sappiamo guardare bene dobbiamo confidare e saper guardare meglio cercarle in altro modo il messaggio che ci viene lanciato dalla Bibbia dal nostro Dio sono bellissimi lui ci dice per esempio io vi dico non siate in ansia per la nostra vita per la vostra vita né per il corpo né per come vi vestirete guardate gli uccelli del cielo non seminano non mietono e non raccolgono eppure vivono lo stesso perché? perché è Dio che li nutre e se nutre loro perché non dovrebbe nutrire noi dobbiamo avere solo fiducia occhio però perché la linea è sottile l'avere fiducia non significa che dobbiamo stare seduti sul divano a non fare niente aspettando che Dio ci metta nel posto giusto al momento giusto perché noi dobbiamo essere pronti lui ci dà quello che ci spetta nel momento in cui noi dimostriamo di essere pronti dimostriamo che lo vogliamo fare poi ci migliorerà man mano quindi non non dobbiamo stare sugli allori e pensare dobbiamo iniziare da oggi a dire da oggi ho una marcia in più da oggi so quello che voglio da oggi mi metto in gioco sto per concludere con un versetto che secondo me ragazzi è molto bello in prima Corinzi 13.13 ci viene detto che tre cose durano di tutto quello che noi abbiamo in questa terra dureranno solo tre cose la fede la speranza e l'amore ma qual è la più importante l'amore 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 per Dio la fede è l'amore per Dio quello che ci spinge a essere qui quello che ci spinge a fare anche delle chiamamole rinunce quello che ci spinge a lottare per poter avere il sabato a lottare per poter avere qualsiasi cosa per il nostro pensiero è l'amore quello che viene professato nella Bibbia è l'amore che è la cosa principale mi viene da dire per esempio Abramo mi viene da dire Mosè Davide gente che ha dimostrato di avere amore per Dio nonostante loro non avessero tante cose non avessero avuto la conferma delle profezie di Daniele dei 2500 anni di storia non avessero avuto il fatto che hanno trovato sotto il mare sotto il mare i carri degli egizi del farone egizio hanno trovato la targa di ponzo pilato che sono verità storiche sono conferme storiche loro non le avevano ma hanno seguito Dio e non avevano neanche la Bibbia ragazzi hanno seguito Dio lo stesso si sono fidati ciecamente noi abbiamo tante marce in più dobbiamo solo crederci veramente farle fruttare se noi amiamo Dio e ci fidiamo di Lui tutto andrà meglio ci sarà solo una frase che noi non riusciremo più a dire se amiamo Dio io non posso io non ce la faccio perché ricordatevi di queste parole io posso ogni cosa in colui che mi fortifica non abbiamo limiti dobbiamo solo fidarci del Signore dobbiamo fidarci della Bibbia che ci può dare degli insegnamenti come ho già detto profeti persone che non si conoscevano ma hanno scritto cose che perfettamente si incastrano cerchiamo Dio lui ci risponde sempre e se pensiamo che non ci risponde è solo perché dobbiamo cercare meglio nella Bibbia gloria a Dio buon sabato amore ringraziamo il Signore per questo messaggio che ci ha trasmesso attraverso Nicola e vogliamo insieme adesso lodarlo con il canto 517 alzandoci in piedi canteremo insieme il canto 517 517 a Dio Grazie a tutti. 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 Aiutaci a cresci noi ogni giorno per giorno la fede, aiutaci ad essere forti nella tua parola e in te nonostante le difficoltà. Tutto questo te lo chiedo in nome santo tuo. Amen. Grazie a tutti. 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 Buon sabato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.